Primo soccorso per muscoli, articolazioni e pelle? Hai bisogno di un rapido sollievo? Ecco Cannavi by Larenz, il potere dei peptidi attivi del collagene ittico, l'efficacia di 100 mg di CBD e la qualità racchiusa nell'olio di canna Pabio, combinati per un'azione sorprendente. CBD Cooling Gel, CBD Relaxing Balm, CBD Warming Help, CBD Special Skin Therapy, 4 cosmetici, 4 azioni mirate, decine di applicazioni. Prova tu stesso!